La nostra serata, questo impegno duro con Miss Italia, grazie ai framesi! Un applauso ai parrucchieri in framesi! Eccoli che arrivano! Ragazzi, facciamo la stapa sera, l'abbiamo fatta ogni sera. Prego, prego ragazzi, vai! Dai, facciamola, facciamola. Dai, Milly, un applauso! Eccola qui! Applauso! E' viva i framesi! Senti di applauso, che tipo particolare! Allora, noi andiamo a salutare questi ragazzi, c'è anche il rappresentante, chiaramente, della framesi, che cura un po' più la parte burocratica, commerciale, appunto, ecco, questa è la cosa che volevo... Eh, 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 hai capito? Eh, 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 senti Liliana, diciamo allora il nome tutto, eh? Liliana? Tierno. Oh, Liliana Tierno, opera dove? Eh? C'è il negozio? A San Pietro a Taranto. Ecco, hai visto? Tanto, mi sono segnato il negozio, poi mi faccio parlare te. No, aveva scritto opera dove? No, opera, il chirurgo che opera, hai ragione. Ascolta, ehm, lei, ecco, una cosa molto importante che volevo sottolineare. Eh, loro, eh, molti di loro hanno grande professionalità e talento. Per esempio, lei, pensate che ha truccato dei big del cinema, come... Hai pettinato, ah, scusa, hai pettinato, sì, sì. No, ebbè, adesso stavo pensando al trucco. Eh, non hai mai truccato nessuno? Eh sì. Eh, allora, ho ragione a dire anche trucco. Allora, dicevo, ha pettinato, in modo particolare anche dei big del mondo del cinema. Per esempio, è stata al Festival Cinema di Cannes, al Festival del Cinema di Venezia, che sono i più importanti festival del cinema. È stata anche a Sanremo. Ecco, questa è una cosa molto importante che volevo, appunto, sottolineare. C'è qualche big che tu hai pettinato, che ti è rimasto impresso? Sì, Valeria Marini. Perché hai fatto questa faccia? Eh. Va bene. Eh, va bene, Valeria Marini. Sì, ecco, tra le tante, insomma. Ecco, eh, ne vogliamo presentare anche loro. Per esempio, lei è? Aspetta, Maria Mena. Non, no, semplicemente Maria. Non si, da Mena non ce lo mettiamo proprio. Sono Anna Menofra, dipendente presso Osi di Bellezza. Presso? Osi di Bellezza. Osi di Bellezza. Eccolo qua, l'Osi di Bellezza. Allora, sempre per l'Osi di Bellezza abbiamo? Pepe Pietro. Oh, Pepe Pietro. Ma anche per te c'è un omaggio. Ah, per le donne. Prego, allora, vogliamo consegnare? A chi? Perché alle... Ah, lui alle... Ecco, perfetto. Oh, che bello, hai visto? Ma domani al negozio, eh? Domani, domani lunedì è chiuso. Magari martedì, martedì. E salutiamo anche il nostro Massimo Napoli, che è il responsabile appunto di Framesi questa sera, che fa il suo saluto ufficiale. Che dire, noi siamo contentissimi di partecipare a questo concorso e credo sia un binomio perfetto, perché rappresenta, cioè, dal 1945 i nostri prodotti... No, 75, sì. 45, la nostra azienda, la nostra azienda che praticamente lavora nel settore high beauty, attraverso prodotti e servizi professionali. Ma è soltanto grazie a loro che noi abbiamo motivo di esistere, perché i nostri prodotti e i nostri servizi è esclusivamente dai parrucchieri d'Italia e in 90 paesi nel mondo. Quindi, veramente è un onore per noi essere qui e rappresentare la bellezza italiana al concorso per eccellenza della bellezza italiana. Grazie. 90 paesi in tutto il mondo, mamma mia. Allora, tutto a posto, Lili? Tutto bene? Grazie per quello che avete fatto. Grazie a voi. Grazie, ciao, ciao Liliana. Allora, per quanto concetti invece il...